ragazze ragazzi eccoci qui su life is strange true colors titolo che mi è stato regalato qualche mese fa per il compleanno dal mio amico andrea il quale ringrazio tantissimo e che finalmente lo possiamo ce lo possiamo giocare insieme allora io ho già impostato ciò che andava impostato come al solito i sottotitoli li ho messi molto grandi ho tolto il nome di chi parla una cosa che mi ha sempre dato fastidio l'audio l'ho già regolato ho tolto infatti adesso c'è silenzio a parte la mia voce perché ho disattivato la musica con licenza così non abbiamo problemi di copyright e in video ho messo tutto al massimo o meglio era già così non ho praticamente modificato nulla e c'è rtracing a quanto pare vediamo se da problemi lo tolgo se no lascio va bene nuova partita ah e non so nulla come il life is strange 2 non so conseguenze ok solito messaggio lo sappiamo molto bene so Alex the day is finally here you've been at the helping hands group home for eight years we've been through a lot in that time we have and now you're finally leaving to live with your brother my brother Gabe it says here he lives in Haven Springs Colorado is that correct that's a big move do you have any plans as far as school or a job my brother said I might pick up a few shifts at the bar he works at so you'd be dealing with people maybe does your brother know about your issues is that an official interview question dr. Lynn Alex you know that I care about you with everything that has happened I just want what's best for you he doesn't know no one will once I leave this place I'll just be a normal girl in a normal town che problemi come ho detto non so niente mi aspetto il solito potere ormai iconico di ogni capitolo capitolo 1 lato a ma come le cassette le vecchie cassette audio cassette I can bet boss game said to meet him at the bridge I can't wait to see him ok da posto tutto colorato siamo in montagna ok ok era apparso qualcosa Pino di fiori Previ per uscire dal momento zen Ah Sì Quei momenti Dove il protagonista Parla Insomma di quello che ti sta accadendo Che gli è accaduto Va bene Va bene va bene Alex Oh Braccio 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 It's just so good to see you again I can't believe you're here Believe it She's all grown up And I missed it I'm a lot taller, huh? Yeah Time will do that to you Are you ready to see the town? See? Hell yeah Let's rock and roll I don't know why I said that Me neither But I love the enthusiasm Okay, the Black Lantern is just up the street I mentioned I live above a bar, right? Even better How was the trip? You must be wiped I'm good The drive through the mountains was amazing Eleanor Hey Alex just got here Alex Meet Eleanor Leif Owner of the flower shop And honest to God Royalty of Haven Springs Oh It is so nice to finally meet you Welcome We are so glad to have you, Alex Gabe told us all about you I'm glad to be here M'alleggiamo nel pensiero, forse She seems nice Yeah, she's great A little quick on the draw with hugs, though Yeah, no shit Welcome to Haven It's nice Eh, si Come on Pieno di fiori Pianti Is this the first official stop on the tour? Absolutely If you follow me inside, you'll find a prize exhibit Gabe Chen buys makeup flowers for angry girlfriend Oh, I can't wait It's gotten so so reviews Hey Gabe Riley, meet my sister Alex What's your greatest weakness? Uh, what? It's for a college interview We've been debating this one for days Gabe insists that I give an honest answer It's always better to give an honest answer And what's the alternative? Lying? Not lying, more like strategic half-truthing Like, I've worked too hard Or I saved too many puppies They could smell that bullshit a mile away I've been trying to warn her Oh yeah? What would you do? Mmm, sincia I would be honest It's usually harder But then you come off as more authentic Called it Wow You two are already wonder-twinning your way through town Seems that way Alex, help me out real quick What do I get for Charlotte? Sunflowers are her favorite But I read online that Lily of the Valley is great for saying sorry What do you think? Cos'ha co... Cos'ha è combinato? What exactly are you apologizing for? This time around? Maybe the toilet seat? Girassoli If Charlotte loves sunflowers Go with the sunflowers That's what I was thinking Eh, mi sembra logico Provo You know, if Mac brought me flowers Half as often Well, he wouldn't be Mac Is it still on and off with you two? Sort of More on right now But wait five minutes and ask again Put this on my tab? Yeah Are you sure you don't want to just tell Mac about the interview? No Not yet I'll handle it Okay Your call We can leave when you're ready Sounds good Might as well have a look around before we leave Statuetta Mandatory For any enchanted garden Statuetta Usabili Ok Per interagire Ok Da sole Perfect Perfect That guy's bad to the gnome Right I heard he won the gnome bell peace prize Oh god Please stop No problem Sembra nulla di che Però Hey ladies What are you drinking? Casette per uccelli The tiny house movement is really taking off Guetti I hope Charlotte likes the sunflowers Ah guarda Non Interessa Francamente How to kill everything you touch A flower book by Alex Chen La scoperta è il sapore della terra Guida il giardinaggio La viola perfetta Come è un giardino magico Vabbè 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 Prima un'altra letta Quando appare Per vedere le emozioni del personaggio E lei è viola Aspetta E' solo questo. Ah sì, solo questo. Vabbè. E' però solo quando dice lui, il fratello non possiamo farlo. Io vado di qua. E non c'è niente, vabbè. E magari possiamo, guarda. Quindi vediamo... Cioè sì. Vediamo barra sentiamo le emozioni della gente. Casa famiglia? Cosa ha fatto? Vabbè, ce ne andiamo? Oh, non so. Grazie. Ci vediamo in breve, Rai. C'è qualche... Può vedere? Ah, è questo il cellulare. SMS. Gabe. Ah, la madonna. Ehi, ciao. 7-2-2019. Vabbè, ok. Segui Gabe lungo la strada. Dottoressa Lynn. Tura. Chelsea, non so chi sia. Vabbè. Jean Isaac. Dottore, ok. Irlanda Primaverile. Ah, avviso. Wow. Buono a sapere. Cos'è? Esplosione automatica programmata. Avviso esplosione. In zona dell'attivazione, nelle aree incluse nel raggio dell'esplosione, studiano delle sirene d'allarme. Cos'è? Devono demolire l'edificio, insomma. Ah, vedi, possiamo... Anche lui è viola. Step one, patch things up with Charlotte. Step two, Alex and Charlotte become best friends and everyone's happy forever. Gabe's pretty nervous about making sure I'll like it here. It's sweet. Vabbè, il nostro fratello. What did you think of the show? Local beekeeper breaks state record for total number of bees. Stop the presses. Hey, don't hate. How many bees do you have? Last time I checked, like zero bees. Vabbè, eh... Ah, non diciamo niente. Ah, no, ok, guarda. I bet Gabe keeps the flower shop in business all by himself. Gabe Chen. Flower delivery man. I know, right? Let me duck in here and smooth everything out. It'll only be a minute. I'll introduce you properly later. Once, you know... It's no problem, really. It's gonna be longer than a minute. Trust me. Oh. Hi there. Gabe's your brother, right? I'm Ethan. Charlotte's my mom. Hi, Ethan. I'm Alex. What you reading? Ninth Warden. Oh, has she found the Scepter of Serenity yet? She's looking for the Scepter, but I think she'll need the Bangla vanishing to get to it. Mh... Faisco, eh, no, di fuoco... Ma sì. I'd rather shoot fire from my hand. Burn all my enemies to a crisp. What if you're high-fiving a friend and the fire ring goes off? Risky. If you like comics, I can... show you the one I'm making. I'd love to see it. You can keep it if you want. I made a bunch of copies to sell in the record store. This is awesome, Ethan. I can't wait to read it. Are you going camping? You know the mines? I know they exist. There are a bunch of old tunnels all around the mountains. I think I found a way into one. I mean... I'm not an expert on old mines, but... That would scare the crap out of me. I just like to explore sometimes. It's no big deal. Oh, man. I shouldn't have told you that. No, no... Beh, promettimi. Sì, forse è meglio dirgli, promettimi che starai a te. I know we just met, but... Be careful out there, okay? You don't need to worry. Really. I think I'll check out that record store. Nice meeting you, Ethan. Bye. Bye. Good, bye. 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 Oh wow! Questo place mi ricorda di un gioco che Gabe and I used to go to. L'ho save up for weeks from his shitty carwash job just to buy us something to listen to. It's crazy. Here I am, years later, still waiting for my big brother in the record store. Except this time, I'm buying the record. No way. Oh, uh... Riccardo regami sfilata di zombie. Sfilata di zombie. Intanto non sentiamo perché... Sarà una canzone... C'è... ... 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 Il National Park Service ha avuto 5 stari. So... ...you're a... ...Colorado State Park Ranger. ...It's all coming into focus. ...Well, bummer the store's closed. ...I was thinking of getting a gift for Gabe, ...but I'll figure something else out. ...I don't even know if he still listens to records. He does. Charlotte just got him a record player for his birthday. I'm pretty sure he put something on hold. So you don't work here? Steph won't mind. It'll be the easiest sale she's ever made. If I could just find the whole list... Damn. ...I know I saw it before. Want to help me look? Oh, yeah. Any ideas on where to start? No idea. Steph leaves stuff all over the place. ... 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 non c'è neanche appresentato ora va meglio ma cos'è assorbe non c'è stato curioso non c'è stato è un ranger però è fuori servizio cioè assorbiamo le emozioni degli altri non so o evitava il comportamento non c'è stato è un bambino che va a girarsi per miniera non mi sembra se non mi sembra buona una buona cosa si fa male non lo dico lo dico non c'è stato Oh, Ethan's in trouble. Really? We'll see. I appreciate you telling me. You did the right thing. What do you say we get you settled in? So, this is what a mining town looks like. Thought there'd be more guys and overalls running around. With soot all over their faces? Exactly. What do they mine here, though? Used to be silver back in the day. And now? Uranium. They blow these big holes in the mountains and sell it off to nuclear power plants. Oh. Yeah. We'll actually be able to hear a blast later tonight. It's pretty intense. Sounds like it. Look who it is. Jed. Hey, got someone I want you to meet. Alex, this is my buddy Jed. Buddy hell. Will you listen to this horse shit? His boss he means. You own the Black Lantern. For the last 12 years or so. It's good to meet you, Alex. Heard a hell of a lot about you. Oh? Only bad stuff. Mostly lies. Your brother's full of shit. You know that? He just about wet himself waiting for you to get here. Quasi. Oh, did he manage to hold it in this time? Good for you, Gabe. I like her. She's okay, I guess. We're heading in. You coming? In a minute. Supposed to meet Eleanor to talk spring festival decorations. He tell you about the festival yet? Not in detail. I'll fill you in later. You do not want to get this guy started. I'm loquacious, goddammit. It's charming. Oh, before you leave, word of warning. Mac's got that old bug up his ass again. So I've heard. Yeah. So, just, you know, eyes open. Anyway, you guys go settle. Alex, pleasure. All mine, Jed. So, spring festival equals mountain prom. It's a lot cooler than it sounds. Not possible. I'm picturing some straight up wicker man shit. Oh, you've been before. Si, assomiglia alla cittadina di Twin Mirror. Più o meno, siamo lì, mi sa. Anche se questa è più colorata. �-. Shit, man. This is all yours? Don't sound so surprised. Uh, myè, Meterà si? When you said that you had a nice place, I was picturing small but homey Well then Welcome to my crib Seriously This is great And the best part is It's actually yours I'm mostly staying at Charlotte's now What exactly do you mean? You mean this is mine It's this thing where people have places they live We call them homes I mean it I want you to have a fresh start here Gabe I Thank you You got it Just promise me you don't throw too many keggers at end in surprise fires Jed will kill me if that happens again Sure thing Didn't we already do the whole staring at me thing? It's just You look a lot like how I imagined you'd be Yeah Do I look how you expect it? Who? I don't know I don't know I didn't expect it at the bar It's still the same You haven't really changed Really? You still look 15 Shut up I mean obviously you're like a man dude But you still have the same facial expressions and stuff You're still you Thanks Which is good Because if you weren't still you I'd have to give your gift to someone else Wait what? Surprise Wait is this This is the album I requested I know I'm good I was gonna get this for you Well I got it for you first So I get the credit Non si sente niente Ovviamente E musica con il copyright Eh beh sì Sembra un po' deficiente Così senza musica Niente Sì sì dai togli togli I can't get over this Feels just like old times Oh no Stop that I can't It's too late Eeeh Diciamo allora What even is that? You're way off tempo You just gotta let the bee flow through you Your turn Vabbè dai Fine Sì vabbè è abbastanza Abastanza musica Vabbè Posso immaginare però You haven't lost a beat You haven't lost a beat Right Yeah Just give me a sec Yeah Hey Mac Can I help you? Something's wrong Hmm I read Riley's phone I know you've been meeting with her behind my back It's not what you think Mac Oh good Cause I thought you were fucking my girlfriend Dude I promise you've got it all wrong Tell me why I shouldn't kick your ass right now No 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 not here No no not here Not my place You really need to talk to your girlfriend I'm talking to you Stay Stay The fuck? The fuck? Away from her! Away from him! Alex, stop! Stop! No! Olè, anche lui. Oh no. Gabe, non ho... È ok. C'è cosa, assorbe... Ha assorbito la sua rabbia e poi l'ha risputata fuori, cioè... Is this just fucking psycho? You could both go fuck yourselves! I'm so sorry! Don't worry about it! Fuck! Wait, Gabe... It's fine. I gotta go stop my shift. Beh, glielo dovremmo dire, insomma. Great. 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 I'm okay. I'm okay. I'm okay. I guess I might as well unpack. Ci sono dei messaggi. Ciao Alex, sono Raya. Mi ha fatto piacere conoscere il negozio di dischi. Non vedo l'ora di chiacchiare ancora un po' stasera. Piacerebbe che è tutto mio, ma dopo... Vabbè, disfai il borsone, ma... C'è casi volontari che aiutino con l'organizzazione del festival di primavera. Cosa sono? Ok. My block, sms, diario... Ah, ecco, diario, magari... Ah, no. Ah, ma è in italiano. Ok. Pensavo... Tessa, rabbia. Amara, gelosa e un po' nauseante. La rabbia aveva quel sapore. Non ha nemmeno avuto il tempo di fare un passo indietro. Dopo pochi secondi avevo già attraversato la stanza. Che disastro. Avevo aperto il labbro, poveretta. Guarda, era in fretta. È difficile lavare via il sangue dai vestiti. Ti fa sentire sbagliata. Era agitata. Non l'abbiasimo. Pensa che mi trattino in modo speciale in questo posto, ma non è così. Ormai non importa più. Mi starà lontana, come tutti gli altri ragazzi. Faremo finta di niente finché non arrivano altri a cambiare tutto. Ogni dì. E sapete qual è la cosa peggiore? Che mi hanno confiscato la chitarra. Per due settimane. Ma almeno me la ridaranno. Prometto, prometto che non è così. Nessun favore, nessun segreto, non c'è niente qui. E dopo tutto l'hai dovuta pagare, sì. Isabella angoscia. Tutte le volte che provo a scrivere, poi straccio sempre tutto. Vediamo fin dove riesco ad arrivare questa volta. Isabella mi piaceva, era simpatica, le piaceva dipingere e ogni tanto ci portava delle birre nel fine settimana. Ma me era tremendamente depressa. Strisciava sotto le mie unghie. Mi appesantiva le palpele. Dovevo concentrarmi per riuscire a respirare. Era un po' come avere le costole inzuppate nel piombo. Era difficile allontanarsi da quella sensazione. Poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Due boccette di sedativi. Un lago di vomito. Mi sono occhi aperti, vitri e terrorizzati. Mi dispiace, Isabella. Pensavo che saremmo rimaste amiche una volta uscite da questa gabbia. Al sapore di vaniglia. Mi sarei piaciuto che fosse rimasta ancora per un po'. Semmai ti rivedrò, la birra la porterò io. Ricordi. Oh, Step. Ehi Alex, sono Step. Scusa se me ne sono andata di corsa prima. Non volevo riconoscerti meglio all'Anten stasera. Idem. E Gabe. Ah, il ragazzo più ok del mondo. Hai ragione su Girasoli. Mi sa che devo abituarmi a dirtelo. Non mi stancherò mai di sentirlo. Ah, ti ho invitata nella pagina del nostro quartiere su MyBlock. Dalla un'occhiata quando è tempo. Ok, grazie. Che è questo? Offro da bere a tutti stasera a Black Lantern per festeggiare l'arrivo di mia sorella. Mi vedo come Gabe si riuscita così bene qui. Ma che diavolo ti prende niente roba gratis? Troppo tardi ormai è su internet. Non è gratis? Sì, neanche per sogno. Confermo. Alex è fantastica. Non so com'è che lei è venuta su così bene e tu sei uscito così. Alcune cose sono realitarie, altre no. Timothy Mike. Ricordiamo a tutti i cittadini di Heaven che la Typhon detonerà delle cariche. Stasera alle 21. Assicuratevi di non trovarmi all'interno delle aree di pericolo indicate. Per qualsiasi domanda o dubbio chiamate la nostra linea d'emergenza. Va bene. Ok, la rifiuta di mia sorella. Ok. Comunico risponderà a tutte le vostre domande riguardo alla possibile apertura di una seconda miniera a cielo aperto da parte della Typhon. Se avete delle richieste lasciate un commento. Che tipo di impatto avrà una seconda miniera sull'ambiente? Grazie per la domanda. Ti risponderemo il prima possibile. Cioè mai. Io sarei felice a rispondere ma dubbio che la mia risposta piacerebbe alla Typhon. Significa che ci sarà più traffico in città? I miei figli vanno a scuola a piedi e tutti quei camion mi spaventano un po'. Sono d'accordo. Grazie per aver parlato di questo problema mi insicurerò di rispondervi al più presto. Ci saranno nuove opportunità di lavoro, vero? Sappiamo già quante saranno? Mi informo. Ecco, sappiamo che niente. Ok, va bene. Vabbè, borsone, puoi disfare le cose. Non è ben chiaro, interagisci con il conno a piacere dei vestiti di Alex. Vestiti. Vestiti. No, ma, ah. Aspetta. Ah, ok. Ah, è carino questo. Colorato. Ah, questo qua è dell'orso. Eh. Orso imbronciato. Ah, posso sentire anche le emozioni dagli oggetti. Beh, è una lettera. Quindi Gabe e Riley hanno lavorato sull'interview e Mac pensava che stavano dormendo insieme. Questo è un po' stupido. Coraggio, signorina Lit, dopo aver esaminato la sua candidatura per il corso di programmazione nell'estate 2019 del CIT, signor Lit, informarla che è stata selezionata per passare alla fase dei colloqui. I prossimi giorni un impiegato della segreteria si metterà in contatto con lei per fissare una data. Comunicazione, buona fortuna. Gabe, ah, sono passata. Ti prego, ti prego, aiutami a prepararmi, Riley. Ok. Aspetta. Bri, sto dicendo, la sua storia non è più grande. Il vuole te. Il mi aiuta a arrivare in college, baby. Siete che i ragazzi possono fare cose buone senza l'esperienza di arrivare tardi, certo? Un scuola di scuola, un ragazzo che è venuto a una f***a giuvia, vuole essere il tuo studiore, buddy? What, out of the goodness of his heart? Oh my God, Mac, we're friends. There is nothing going on between Gabe and me. Siamo sensitivi, barra, boh. Assorbiamo le emozioni della gente, non so. Alex, do I want to know? Servizi sociali dell'orgo, un ufficio di assistenza ai minori, con te a di mano, ma... Responsabile? Cos'è? Non autorizzata a riuscire a informazioni sul luogo, casa famiglia... Anita e Eduardo, sono uno dei buoni. A Gabe Chen. Caro Gabe, io ed Eduardo siamo molto felici di sentirti di sapere che stai bene dopo tutti questi anni. Il Colorado è lontanissimo, sfortunatamente è stato difficile tenerci in contatto con Alex dopo che è stata inserita nel sistema delle case famiglia. Non sappiamo dove vive ora. Ecco il numero di telefono dell'agenzia, magari loro possono aiutarti, i servizi sociali. Rispondono solo il terzo mercoledì del mese. Prova con gli uffici di assistenza ai minori, buona fortuna. Speriamo che tu riesca a trovarlo, un abbraccio Morales. Portano in elenco. Chen, Aileen, Anissa. Alex, no, è un uomo. Segretario, riprova. Ha risposto, non è lei. Ah, ok. Va bene. E beh, se... Abbiamo a che fare con gente arrabbiosa e noi abbiamo sta reazione... Insomma, non riusciamo a controllarci. Ah, beh. Temi dei papperelli di gomma. C'è la cucina. Calamita. E' un radio indie rock del New Year's Spring. Fotografia. Fotografia. Libro. 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 Spazio in un abbraccio. Come essere genitore responsabile di un figlio indipendente. Presa Annabelle. Capitolo 4 è più importante. Ne parliamo davanti a un bicchiere di vino. Notiamo. Videogioco. Beh, non è un racer, vabbè. I radischi. Eh? Ah. Sarà finta. Gabe ha sempre voluto una bicchiere di vino così. Posso andare anche su? No. Ok. Come si è arrivato qui? Minehound. Vedo vedere. Su, giù, destra. Salta. Sale e scendi. Vabbè. Proviamo una volta. Dove sono? Aspetta. Ah, ecco. Cos'è? Tipo... Oh. Bachman. Devo raccogliere... Aspetta. Ah, manca questo. Oh. 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 Opla. No. Oh, oh. Sono... No. Eh, vabbè. Ho tre vite. Ci ho altre due vite. Via. 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 Veloce. Prima che arrivino i fantasmini. Sì, ma è tipo Pac-Man. Va, che prendo la luce. Hai visto? L'ho nientato. La torna su. Torna su. Attenzione. Attenzione. nooo sono morto vabbè andiamo fin dove arriviamo ovviamente hop ok ci sono arrivato vai vai raccogli tutto questo l'abbiamo distrutto ok abbiamo ancora una vita diventerà sempre più difficile hop essendo un luogo di minatori ci sta bene questo giochino hop no oh no e basta e vabbè no è l'ultima e là non ci arrivo ma ci arrivo là scusa ah così nooo e vabbè game over vabbè basta si vabbè chissà se esiste veramente un gioco simile c'è la celebrazione del 150esimo anniversario 167 2017 150 anni di comunità sabato 21 giugno tutti gli eventi sono gratuiti aperti al pubblico municipio alza silenziosa dimostrazione di un'autopompa antica quindi siamo aspetta siamo nel 2019 non c'è una data qui no per curiosità la lettera per Riley si ok ok se non ho capito male si no quindi stavo pensando ai capitoli precedenti eventualmente incontrassimo qualcuno Gabe Chan caro Gabe la tua lettera è arrivata a Yee non posso lamentarmi se mai ti servisse una pausa vieni qui da me perché si mangia da Dio e si vive ancora meglio credimi non mi stancherò mai di sentire che stai bene a volte ripenso la prima volta che ci siamo incontrati al riformatorio mi hai mandato a fanculo ben tre volte ma non avevo mai incontrato nessuno che ascoltasse così intensamente ogni mia parola spero fin da subito che avresti preso qualsiasi opportunità al balzo davvero sei il ragazzo migliore a cui ho mai dovuto fare da mentore e non dimenticarlo sappimi dire come va con Alex spero che tu riesca a trovarla un abbraccio Len quindi era una attaccabrighe vabbè questo bolsone va nostro fratello tira fuori beh ma se hai sta cosa non c'è da fuori il fumetto abbiamo visto cose non c'è Shushu Ethan è davvero talentato fa sensazione che sua mamma è un artista il tunnel è la protezza dei mostri di Demo è incrollato devo trovare un altro modo per entrare in un informe della guardia sembra che sia morto da tempo sangue beh il tira finisce qui a meno che e cavo ah deve essere infilato qui dentro il corpo di un serpente delle nuvi ovviamente si è schiantato sul tetto magari se riesco a salire più in alto riuscivo a trovare l'entrata segreta tornerà mai più a volare il serpente delle nuvi ma potresti essermi ancora utile quel bagliore dietro la cima della montagna deve essere entrata a secondaria della fortezza vabbè fu meglio tira fuori le lettere lettere guarda ciao alex come stai sei ancora helping hands volevo solo dirti che per un po' cancellerò il mio account per non farmi trovare sono stata con uno stronzo un paio di volte per avere un posto dove dormire adesso non mi lascia più in pace ah me ne vado anche da Burnside il nostro supervisore è un razzista e continua ad accusarmi di spaccio se mi sistemo da qualche parte ti chiamo onestamente ormai non so più cosa fare ma mi conosci mi inventerò qualcosa beh spero che tu stia bene l'ora è ancora lì mi ricordo quando l'hai menata lol mi manchi scema baci Sydney cara alex capirei se avessi buttato via questa lettera anche prima di aprirla ma se decidi di leggere grazie per mi hai dato l'opportunità di chiederti scusa non ero pronta non avevo la stoffa per essere una madre adottiva lo stress le liti le grida era troppo per me specialmente la mia età avrei dovuto saperlo scusa se ti ho reso la vita difficile buona fortuna per il futuro un saluto signorina August al prazola caro alex buon compleanno spero che tu stia passando un giorno meraviglioso che non abbia a che fare con delle merde dall'alba al tramonto ma parliamo di cose serie volevo ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me quando ci siamo conosciute mi sono stita al sicuro e felice adoravo i momenti in cui eravamo insieme è strano per persone come noi eh comunque grazie per essere te stessa per essere la mia amica per il mondo per il modo in cui prendi a schiaffiarli per lasciarmi mettere i tuoi vestiti anche quando non te lo chiedo non voglio sembrare una sfigata ma sei l'unica cosa bella qui dentro bacioni Chelsea ah non c'è più non c'è altro che possiamo no apri cassetto o ho già aperto sì ma immagino sono cose specifiche e poi la fotografia crazy how much we've changed no no devo controllare dall'abitudine forse controllare tira fuori il diario il diario il diario il diario il diario è tempo di aggiungere il mio latest meltdown questo no Mac ah sì Mac rabbia è iniziato tutto quando ha bussato alla porta io devo aver capito che c'era cosa che non andava ancora prima che Gabe l'aprisse come se qualcosa stesse entrando strisciando sotto qualcosa di rosso di terribile ed eccolo lì Mac quella sensazione familiare di panico che provo sempre quando sto per perdere il controllo nonostante cerchi di respingerla non se ne va finché inizia a rivolirmi il sangue poi c'è quel momento in cui il mio corpo decide di fare del male a qualcuno uscire sempre comunque nessuno può fermarmi la rabbia di Mac era passionale inebriante e anche abbastanza terrificante si trattava solo di Riley il pensiero che lei fosse con qualcun altro il pensiero che lei fosse con chiunque altro lo bruciava dall'interno quella sensazione come delle corde calde che bruciano le tue costole dall'interno è una delle sensazioni più stancanti del mondo quando finisce tutto è un gran sollievo quando le tue orecchie smettono di fischiare e il tuo cuore rallenta passando dal battito d'ali di un colibì a un pigomartello pneumatico che sollievo peccato che è costato un pugno in faccia a Gabe come faccio a chiedergli scusa per una cosa del genere sono corde che ci legano che scottano e si intrecciano dentro le mie costole fanno male finché non mi abbandonano non mi abbandonano non mi abbandonano cos'è per Alex un piccolo errore di benvenuto non vevole sentirti strimpellare non mi abbandonano non mi abbandonano no ma dai anche questa ma scusate ma scusate ma fate delle non so tracce alternative per chi ha tutto gioco o lo stream su twitch o lo pubblica su youtube c'è qualcosa anche di meno bello però basta che ci sia qualcosa perché c'è così ok però è un po' brutto insomma Alex sta cantando e noi boh sentiamo i suoni ambientali e basta vabbè cioè non so che così è stato più semplice per i sviluppatori metti molto grazie eh però eh vabbè tra l'altro da quello che ho capito appunto a lei piace anche la musica quindi magari è anche una cosa fondamentale una delle cose fondamentali mettimi qualcosa di di non protetto anche in life is strange 2 c'era sta cosa però devo dire tutto sommato quei momenti non è stato anche così grave voglio dire secondo me il parlarne con qualcuno potrebbe essere potrebbe essere già il primo passo no credi eh eh non è stato